Lavori fermi da 11 mesi e alunni che sono obbligati a spostarsi in altri istituti per le elezioni. C'è stata anche una visita del ministro, il ministro Giannini, ma tutto questo non è servito a portare al termine questi lavori che proprio l'amministrazione testa aveva fatto partire. Perciò, secondo voi, qual è stato il problema? Noi ce lo chiediamo come noi se lo chiedono anche gli alunni, se lo chiedono i professori, se lo chiede il preside, se lo chiedono i genitori. I lavori sono stati iniziati a giugno, metà giugno del 2014, sotto proprio il mio assessorato, e si sono sospesi a settembre del 2014. Ad oggi, con l'amministrazione nuova, quindi in capo al presidente Antonio Di Marco, che è entrato i primissimi di ottobre come presidente della nuova giunta provinciale, ad oggi i lavori sono ancora fermi dopo 11 mesi. Una vergogna per Pescara, una vergogna per la provincia, dal momento che noi abbiamo puntato tantissimo su questo istituto, gli abbiamo dato una dimensione nuova, gli abbiamo dato anche una prospettiva diversa. Abbiamo condotto una battaglia veramente dura per far acquisire 3 milioni di euro circa all'istituto alberghiero, proprio per la ristrutturazione della palestra, che da palestra deve diventare un sito per i laboratori di cucina e non solo, e ad oggi la situazione è ancora in pieno stallo. Quanti soldi erano stati destinati per quell'istituto? 2 milioni 840 mila euro cash, pertanto i soldi stanno dentro i cassetti, i soldi sono pronti per essere spesi, abbiamo fatto una progettazione molto importante proprio per dare un futuro a questa scuola. Noi ci chiediamo il perché e fanno molto bene, io ritengo, i docenti stessi a protestare e soprattutto a porre delle domande molto imminenti, importanti al Presidente della provincia affinché nell'immediato risolva il problema. Io ricordo che stiamo oggi al 20 di agosto e fra 20 giorni iniziano le scuole.